Per me ti dico, non so, sei il mio falegname, no? Come si diceva? Artigiano. Il mio artigiano. Perché sei la... come si può dire? Sei il ciclo, cioè sei tu quello che chiudi il cerchio. Il cerchio, perché finché teniamo tutto qui è tutto bellissimo, poi se non mettiamo, se non tocchiamo con mano... Guarda, io uso quando mi capita di fare le serate, così dove vado a parlare del lavoro, del mio lavoro, della stampa, uso sempre a fare una domanda ai partecipanti, che è questa. Qual è la differenza fra uno scatto e una fotografia? Le interpretazioni sono tantissime, non ce n'è una valida, ma per quanto riguarda il mio lavoro, la mia personale risposta, che tra l'altro arriva dopo qualche anno di esperienza, si ricollega esattamente a quello che hai detto tu adesso, cioè lo scatto è un'immagine che è ancora qua dentro, nel monitor. Perché? Perché semplicemente mentre è su monitor, mentre è ancora un file, è suscettibile di cambiamenti. La puoi cambiare, la puoi variare quando vuoi. Quando l'hai stampata, dai oggettività all'immagine. Quella è e quella rimane. Quella stampa. Quella per me diventa la fotografia. Diventa la fotografia perché è l'oggetto reale che tu puoi toccare, che tu puoi vedere, che diventa immutabile. Con la F maiuscola. Con la F maiuscola. Perché siamo abituati. E quindi, come hai detto tu, esattamente è la chiusura di un cerchio. Finché l'immagine rimane racchiusa, imprigionata dentro dei numeri che rappresentano il file, tu la puoi interpretare in centomila modi diversi. Certo, questo, ma per quello, non so, ho voluto usare la parola, perdonami, il filegname, ma per dire, noi ovviamente il filegname lo colleghiamo all'artigiano, no? Sì, sì. Per qualche motivo, no? Soprattutto oggi, che è così tutto automatizzato, tutto quasi pronto, no? E quindi io, tra l'altro io e te, ti ho conosciuto perché, proprio perché ovviamente avevo bisogno di toccare con mano, no? Le mie immagini. E ti dico la verità, la difficoltà era proprio trovare dall'altra parte la passione con la P. Cioè, sono abbastanza precisino, un po' quasi in tutto, però trovare una persona che dieci volte è peggio di te, e, cioè, per me è stata una cosa, no? È stata una cosa, ah, boh, ho trovato... Bella. Ma, perché io mi ricordo la prima volta che ti portai una fotografia... Eh, quella della Torre Eiffel di Parigi, che dobbiamo sempre rifare. Che dobbiamo sempre rifare, e lì ho visto, c'è un certo punto, ho fatto un passo indietro e ho visto te che eri con la testa lì dentro, che cercavi di capire, ho detto, ah, finalmente, cioè... È una roba, è una roba, non so, io, poi se ti piace la fotografia, puoi, diciamo, puoi capire tutte queste cose. E però, oltre a ciò, perché, cioè, quello che mi piacerebbe anche capire, no? E, cioè, tu ti alzi la mattina e sai che devi lavorare, perché tu, ovviamente, se... Chi non ti conosce, hai e stai facendo dei lavori molto importanti, per, comunque, per fotografi già abbastanza, no? Per dei grandi nomi, anche. Cioè, la mattina che sai che devi affrontare un lavoro per, fammi dire, dimmi un nome, non voglio... L'ultimo, grande, ce ne sono tanti, però, Oliviero Toscani, per dire un nome universalmente conosciuto. Cioè, come affronti il discorso, anche perché hai una grossa responsabilità, perché quella è una responsabilità, no? La preoccupazione di dire, sto consegnando un lavoro che per me è top e perfetto, no? Però, magari, arriva il cliente e ti dice, eh, ma magari avrei preferito... Cioè, come cerchi di lavorare insieme al fotografo, giustamente? Perché quello è importante, perché io lì voglio arrivare. Cioè, anche il concetto, la mattina ti alzi e dici, boh, io devo fare quel lavoro lì. Quello che vorrei capire da te è concettualmente... Come mi sento? Cosa succede? Allora, guarda, ti do un paio di risposte. Primo di tutto, alla tua prima affermazione, mi dico, scusami se ti paragono a un falegname, ma io mi sento profondamente artigiano. Assolutamente, sì. Profondamente artigiano, perché il processo automatizzato qua non esiste. Ogni stampa ha una propria vita e va capita. Ogni immagine va capita, bisogna tirar fuori il meglio di ogni immagine, e poi va tradotta in goccioline d'inchiostro che si depositeranno permanentemente su un foglio di carta. Certo. E tutto questo processo qua, per quanto altamente tecnologico, perché c'è una tecnologia dietro spaventosa, no? Se pensiamo alle stampanti, a quello che sono in grado di fare, ma loro da sole non hanno il minimo valore se non c'è una mano esperta che le conduce. Tu hai detto una cosa, quando ti alzi al mattino per venire a lavorare, e io ti dico che io non vengo a lavorare. Io ho smesso di lavorare quando ho aperto il laboratorio, e questo te la dice sulla passione. Cioè, a me arriva il lunedì mattina, che io sono felice di entrare qui dentro. Poi ci sono le problematiche imprenditoriali, ma quelle sono classiche, cioè è normale, no? Quindi da questa mia grande passione ne deriva il mio sostentamento, perché ho deciso di far sì che questa sia la mia vita. E come affronto quando arrivano i grandi lavori? Con un pathos incredibile. Ah, immagino. No? Però, da un lato c'è il fatto che ogni giorno il mercato mi dà conferme su ciò che io sono in grado di fare. Quindi mi ancoro a questo concetto e mi dà forza. E poi c'è un altro aspetto. Quando ho affrontato questo lavoro a novembre di... no, ottobre, era fine ottobre, di Oliviero Toscani, senza nessuna guida ho dovuto affrontarlo da solo, perché Oliviero Toscani non è venuto qua in laboratorio, né si sarebbe mai sognato di farlo. Mi hanno dato dei file e mi ha detto, devi stamparli al meglio. Io avevo già fatto delle prove prima che avevo inviato e questa prova è stata assolutamente accettata, quindi sono proprio stato scelto come laboratorio in funzione delle prove che mi hanno fatto fare. E ho detto, a un certo punto, caro Davide, qua ci metti tutto il tuo sapere. Tu fai di tutto e sei con la coscienza a posto. Ovviamente non ho lasciato niente al caso e non sono stato intransigente su tutto. Quindi sono diventato... se io già sono uno pignolo, sono diventato pignolo all'ennesima potenza. Cioè nel senso che mi sono messo lì. Qui la responsabilità, no? Esatto, no? Cioè se io ho delle foto che sono andate male, per dire, in stampa, perché c'è un puntino che vedo io, ma sono state prese e cestinate. Ho dovuto e ho voluto dare la perfezione di ciò che io sono in grado di fare. A quel punto lì mi sono sentito tranquillo, perché ho detto, il signor Oliviero Toscani può venirmi a dire qualsiasi cosa che non gli piacciono, che non è. Se mi dice questo è perché io devo ancora crescere. Chiaro. No? Se gli piacciono io ho dato il meglio di me stesso. E questo mi ha messo in una condizione psicologica di tranquillità che mi ha permesso di affrontare il lavoro con un grosso entusiasmo e sicuramente poi con dei risultati non indifferenti, perché le stampe, devo dire, che alla fine sono venute fuori veramente belle. Poi comunque sono quelle sensazioni, nel senso che capisci, quando una stampa sta venendo fuori bene, perché la vedi, no? Cioè si crea una vibrazione dentro di positività. E quando arriva questa vibrazione non puoi aver sbagliato, perché questa vibrazione che provo io la provo al cliente, la provo a chiunque guardi le immagini. E devo dire che sono stato sommerso dai complimenti per le stampe. Sono andato a vedere la mostra decine di volte e ogni volta dico, ma no, ma questa non posso averla fatta io. E questo è il bello, no? Anche quello che hai detto prima, no? Cioè il discorso di dire, se mi dice che c'è qualcosa che non va, probabilmente devo crescere. Eh, certo. Cioè ti fa capire quel senso che una persona ha di dire, cioè è un continuo crescere e migliorarsi, non è un continuo fare sempre il passo in avanti. Dovrò sempre fare di meglio di quel lavoro lì. Io mi sento ogni giorno all'inizio della mia attività. Vedi, questo... Se io sono perfettamente cosciente che il giorno in cui mi sentirò arrivato posso chiudere il laboratorio. Posso chiudere il laboratorio perché vuol dire che non hai più nulla da dire e invece devo, ma per mio carattere, io devo avere continuamente delle sfide sotto da portare avanti. E non per niente non sono mai soddisfatto del mio lavoro o almeno io posso esserlo soddisfatto, ma mi pongo sempre dalla parte del cliente. Sarà il cliente soddisfatto? Cosa posso ottenere di più? Cosa posso fare di più? Questo mi permette di continuare a studiare, di pensare soprattutto a nuove soluzioni. Perché oggi più che studiare, io devo pensare a trovare nuove soluzioni, nuovi modi per arrivare ad avere un prodotto di eccellenza. Però studiare, io conoscendoti, so che ovviamente hai fatto un percorso prima del laboratorio e tutto quanto, hai fatto un percorso soprattutto di studio, no? Prima di dire mi metto a stampare. Beh, io ho studiato 15 anni prima di aprire il laboratorio, ho stampato 15 anni prima di aprire il laboratorio. E quando ho comprato le stampanti di grande formato, le ho tenute ferme un anno per studiarle prima di cominciare a lavorare per terzi. Perché io la macchina la devo avere qua, sulle diga. Certo, devi conoscere i pregi e difetti di quella macchina. Devi avere tutto sotto controllo, cioè io oggi sono in grado di incrociarti i canali dei colori, mettere il giallo al posto del verde, il verde al posto dell'arancio e di controllarne tutte le funzioni, no? Ma questo è solo un aspetto, perché come noi sappiamo la tecnica è una cosa che si impara. La sensibilità anche, ma chi non comprende in questo lavoro che tecnica di stampa, i profili di stampa e sensibilità all'immagine devono viaggiare di pari passo, potrà essere sempre un grande stampatore, ma, cioè stampare molto bene ciò che gli consegnano. ma il vero problema sta nel saper tirar fuori dall'immagine quella che è l'idea del fotografo, per quello che il fotografo deve lavorare a mio fianco, perché i monitor che io utilizzo sono dei monitor che sono ovviamente tarati per cercare di rappresentarmi al meglio ciò che uscirà dalla stampa. Questo è un grosso limite, è un grosso limite perché la maggior parte dei monitor dei fotografi sono monitor di tipo commerciale che hanno la necessità di farti vedere la foto bella e subito. Chiaro. No? Quando poi il fotografo arriva da me e dice guarda ho fatto ore di post-produzione e poi vede la foto sul mio monitor che è senza contrasti, che ha un certo tipo di luminosità, è sullo zero assoluto. È sullo zero assoluto perché la stampa è zero assoluto e va in depressione, dice ma io non la vedevo così. Ma infatti ha anche la capacità di affrontare, no? Dire guarda che forse probabilmente hai fatto qualcosa che quello che vedi probabilmente non è il... Nel senso che non è giusto dire quello che vedi Sì, non è corretto. Quello che tu vedi sul tuo monitor va bene per il tuo monitor e ti fa vedere la foto più figa del mondo. Ma il problema è che tu devi venire qua e quello che conta è il mio monitor e questo ti porta e ti spiega un pochettino meglio il concetto col quale abbiamo aperto. Qual è la differenza fra una fotografia e un file. Il file è dipendente dal mezzo col quale tu lo visualizzi, in questo caso il monitor. Se tu hai dieci monitor diversi, il file è sempre lo stesso ma vedi la tua foto in dieci modi diversi. È come andare a vedere un televisore al supermercato. Ne hai cinquanta, il canale è sempre quello ma tu vedi cinquanta immagini diverse. Ecco perché io dico che il file non ha una sua oggettività, no? Allora tu prendi l'immagine, la devi vedere qua su questo monitor perché lui colloquia con quella stampante. Se io ne prendo un'altra stampante probabilmente il risultato mi cambia. Allora io quando chiudo questo cerchio fra il signore qua e la stampante lì tutto funziona. E quello per me è il processo di stampa adesso è il processo più facile, la parte più facile. Io ti stampo quello che tu a grandi linee perché poi con le differenze fra un monitor e una stampa. Però io so prevedere perfettamente quello che vedo qua e quello che stamperò. Se io qua non lo vedo bene vuol dire che non uscirà una bella stampa. Io devo vederlo bene qua. E il fotografo deve vederlo bene qua. Lo deve interpretare. Quindi deve tirar fuori le sue luci, deve tirar fuori i suoi colori su questo monitor. Quindi tu so che ogni tanto ti occupi anche di cioè ogni tanto sempre ti occupi sempre di post-produrre l'immagine che tu ricevi. Correggere. Perché la post-produzione la fa il fotografo e viene qua con un'idea ben precisa di quello che lui ha visto sul suo monitor. Poi semplicemente deve trasportare quella sua idea qua sul mio di monitor. e allora lui è la mente e io divento il braccio. Nel senso dimmi cosa vuoi ti piace? Va. Poi per carità ci metto anch'io del mio nel senso che posso dare dei suggerimenti posso dirti guarda hai mai messo dei vincoli? No io vincoli non ne metto. Per me il mio traguardo è arrivare a tirar fuori l'anima della foto e l'anima della foto è nella mente del fotografo. Se io pongo dei vincoli ho finito il mio lavoro poi ci sono i vincoli tecnici chiaramente quelli però sono trascendono dalle conoscenze e dalla mia attività trascendono perché se una foto non è stampabile non può arrivare in maniera decente a quella che è l'idea del fotografo boh quello bisogna farsene una ragione. Io volevo affrontare un po' un discorso forse un po' scomodo perché io conosco bene Che bello dai sono contento Io abbiamo iniziato magari questa chiacchierata dicendo che giustamente ovviamente tu per quanto riguarda me sei il mio artigiano quando hai deciso di dire domani voglio aprire il mio laboratorio hai pensato al fatto che ovviamente c'è tutto un discorso di fammi dire di industria di quel settore questo per te oggi no dopo questi anni di esperienza che hai avuto nel tuo laboratorio può essere o potrebbe essere un problema domani assolutamente no ok allora io quando ho aperto il laboratorio l'ho aperto esattamente con l'idea che ho oggi non è cambiata di un millimetro forse perché ho avuto la fortuna di fare un percorso formativo con con dei grandi maestri uno dei quali è stato Dan Margulis questa figura del padre della corazione colore americano che mi ha fatto capire la differenza fra stampare ciò che ti mandano e stampare invece ciò che è corretto per cui io quando ho aperto il laboratorio ho fatto una scelta ben precisa una nicchia innanzitutto dove ci deve essere la qualità assoluta avrei se no trasformato il laboratorio in una specie di tipografia avanzata di qualità e non è stato il mio obiettivo e non lo sarà mai nel senso che chi viene da me è perché ha l'idea precisa di ciò che deve ottenere chi viene da me è perché sa che ha bisogno della qualità assolutamente quindi il discorso dell'industria il discorso del quantitativo non è un discorso che mi interessa io non io non ho il budget di stampare 5000 foto l'anno non me lo sono mai posto né me lo porrò mai io ho il budget dello stampare la foto di qualità cioè di ottenere l'eccellenza è come se io dentro di me avessi già la visione del tipo di foto che voglio ottenere ogni volta che ne vedo un'immagine è come se io la vedessi già idealmente stampata e lì devo arrivare per cui tutto questo mi porta a non preoccuparmi assolutamente di quello che può fare il mercato no tutto questo è quello che oggi mi fa ancora tagliare tutte le foto a mano col taglierino e il righello chiaro no che mi fa fare i montaggi sui pannelli fatti in un certo modo dove se c'è una sola bolla non mi interessa prendo e getto via tutto perché io non posso dire abbiamo usato una carta cotone incredibile abbiamo speso un'ora due ore per post produrre una foto abbiamo ottenuto una cosa e poi vanificare tutto perché c'è una bolla che vedi anche solo in controluce io non voglio produrre le stampe io voglio produrre opere d'arte che è quello che si aspetta il cliente da me chiaro quando uno decide di venire da Davide deve sapere che comunque diciamo vuoi andare a trasformare quella tua immagine in un'opera d'arte quindi hai usato un po' una parola che si è detto tutto un altro concetto che tu sei classico esempio secondo me del fatto che vale anche vale anche cioè funziona ancora il uso una parola un po' il passaparola no? l'artigiano che si fa conoscere col passaparola che quindi il tuo rapporto ad oggi perché sappiamo che oggi passa ovviamente ormai la maggior parte dell'attività passano attraverso il web i social quello che è il tuo rapporto con quel ramo lì con i social io vengo da te perché è stata prima di te una persona che io conosco è stata da te prima di me una persona che conosco e mi dice guarda vuoi una fotografia vuoi una stampa vuoi un'opera d'arte c'è Davide ed è questo che io ho visto ultimamente il tuo rapporto anche con i social nel senso che dici per me io sono l'artigiano non ho bisogno di ad oggi di dire voglio raggiungere un come si dice un 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 ramo che magari non mi interessa attraverso i social però voglio raggiungere lo stesso cioè tu sei il classico esempio come dicevamo prima del passaparola che funziona ancora sì assolutamente allora premetto che i social per me comunque sono importanti perché è anche sui social che si che si consolida questa immagine di artigiano quindi io li utilizzo magari non li utilizzo al massimo li utilizzo male come sono capace tutto quello che si vuole però credo credo molto nel social ma non per ampliare il mio diciamo così il mio parco di clientela ma semplicemente per confermare quella che è la mia immagine che io intendo che sento di dover costruire ok a proposito del passaparola ti racconto un un aneddoto che mi è sempre stato in testa e che mi ha guidato in questo mia mamma usava quando entrava dal macellaio chiedere ma è buona la sua carne e io mi domandavo ma se questo signore qua deve vendere la sua carne come fa a dire che la sua carne non è buona certo certo che la mia carne è buona no non può essere altrimenti perché ti dico questo perché io non ho mai sbandierato e non lo farò mai neanche caratterialmente il dire io faccio belle stampe no perché io sono come il macellaio chi è che mi viene a credere se io vado a dire che io stampo bene io stampo compassione questo sì ma io non lo so se stampo bene no è il passaparola se tu vai a dire al tuo collega al tuo amico guarda che Davide stampa bene vale mille volte in più assolutamente che non io vada a dargli guarda che io stampo bene e vabbè tu stampi bene perché ragazzo è il tuo lavoro devi farlo ma il passaparola è stata la chiave e sarà e io voglio coltivare questo passaparola anche attraverso i social no di ciò che io faccio perché deve essere il pubblico che parla di me non io che decanto il mio lavoro al pubblico non mi interessa decantare il mio lavoro al pubblico io voglio essere giudicato dal pubblico nel bene e nel male per me i più grossi passi di crescita che ho fatto in questi anni mi sono arrivate dalle critiche più feroci che io sono contento di ricevere sono quelle che fanno crescere perché sono quelle che fanno crescere questa è questa è l'altra cosa di Davide D'Angelo umiltà è la parola devi affrontare questo lavoro come qualsiasi lavoro con umiltà certo del non sentirsi mai arrivato del sapere che puoi crescere del sapere che come si dice non tutti i gusti sono alla menta cioè che può piacere a te può non piacere agli altri e quindi il mio piacere che trago quando faccio una stampa è relativo e funzionale a me stesso e non sono arrivato io sono arrivato in cui quando vedo il cliente felice e ti devo dire proprio poco tempo fa ho scritto proprio sui social una frase che dico la bellezza del mio lavoro non è tirar fuori una bella stampa ma è vedere la felicità degli occhi del mio cliente quando la guarda beh questo hai capito questo racchiude un po' la mia filosofia questo racchiude un po' perché se io mi soffermassi al dire ah ma che bella questa stampa quanto l'ho fatta bene sarei arrivato a metà del mio lavoro è nella metà più dannosa e invece io guardo il cliente negli occhi e quando vedo che viene qua il cliente insieme a me no comincia a vedere la stampa che esce dalla stampante vedi negli occhi vedo i suoi occhi no ma tutti fanno una cosa e io lì ho capito che sta andando bene tira fuori la macchina fotografica e comincia a fare la foto della stampa che esce dalla stampante questo è questo è elaborare questo no questo è veramente coltivare la propria passione questa è passione questa è felicità ed è una cosa non da poco una cosa positiva questo è Davide D'Angelo grazie per questa chiacchierata ok è stato un piacere piacere tutto mio grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.